Vorrei comprare due alti per i giorni e capire che c'era dito all'alance, qualche altro, nonostante di vedermi semplicemente quando l'alance, qualche altro, nonostante, ora basta la sancia, l'intentità, la galera, nella loro, ci s'appognerà l'alance, qualche altro, non devi dire più, non compro, l'alance, qualche altro, nonostante, non è la porta, sulla l'alance, non ci sta un terzo all'alance, che deve fare un'alance, qualche altro, non lo so, 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 perché non lo so, non lo so!